Mancano meno di 1500 pratiche al termine delle attività istruttorie dell'ufficio speciale dell'Aquila. Una luce, quella che si intravede in fondo al tunnel della ricostruzione, dove a fare la parte del leone sono i progetti privati del centro storico cittadino, ma in cui sempre più attive si mostrano anche le frazioni. A fare il quadro della situazione è il titolare dell'USRA, salvo Provenzano, che prima della pausa estiva stila un bilancio. Secondo i dati forniti dall'USRA sono 29.500 le pratiche presentate per un importo complessivo di 8 miliardi di euro, di cui istruite 28.000. Vuol dire che per questo numero di pratiche è stato rilasciato il contributo e che dunque sono cantieri in corso oppure lavori consegnati. Ed è proprio sugli importi che va calcolata la percentuale della ricostruzione, che a oggi si attesta al 75,31%. Finalmente abbiamo superato la soglia psicologica del 75%, di cui si parlava nei giorni del sisma. Siamo oltre quella percentuale, anche con riferimento al fatto che in questi mesi di attività quasi pre-vacanziera, l'ufficio ha continuato a lavorare a ritmo incessante. Che cosa è emerso in questi ultimi giorni? Guardi, è emerso un dato importante che mi piace condividere. Negli ultimi 10 giorni sono rientrate oltre 20 pratiche SP2, che significa quelli che poi diventeranno cantieri. E di queste 20 pratiche, 19 sono di frazioni e una soltanto del capoluogo. Questo ci aiuterà moltissimo a provare a recuperare il gap di cui si parla sempre, che le frazioni sono indietro, perché nei prossimi due mesi istruiremo sostanzialmente queste pratiche e che presto diventeranno cantieri. Il problema cronico del personale? Guardi, quello è un tasto dolente, perché rispetto alla dotazione originaria siamo sempre in deficit di personale. Sia io che il collega di USRC abbiamo iniziato dei discorsi col MIT, perché accade che la gente viene riassorbita, con gli scherimenti alle gradatorie, viene riassorbita dal MIT. Il personale che era molto formato è abbastanza qualificato nell'attività dei processi di ricostruzione. Abbiamo avuto dei segnali di apertura da parte del Ministero, concedendoci la possibilità di attivare delle collaborazioni con lo stesso personale che è andato via.